La gamma dei prodotti in vetrocellulare Foam Glass è molto ampia, questo per potervi offrire il prodotto migliore per ogni tipo di applicazione. La lastra nuda è la versione di partenza della nostra produzione. Più lastre nude unite tra loro e rivestite con un velo vetro sia sulla faccia superiore che su quella inferiore, costituiscono i pannelli board. Le lastre ready o i pannelli ready board presentano un velo di bitume sulla faccia superiore, applicato in fase di produzione e protetto da un film termofusibile. Sono studiati appositamente per facilitare l'applicazione di una guaina bituminosa a fiamma in piena aderenza sul pannello senza la formazione di pericolose bolle d'aria. Ed infine i pezzi speciali, Perisave, Perinsul e le lastre tapered appendenza integrata risolvono problematiche e facilitano le operazioni di messa in opera in specifiche zone dell'involucro edilizio.